e ben ritrovati di nuovo su review io oggi vado a recensire per voi ma proprio brevemente questo alimentatore per macbook air da 13 pollici nel mio caso l'ho comprato per questo macbook air del lontano 2014 adesso ovviamente ci sono nuovi modelli quindi nuovi alimentatori ma magari per chi avesse necessità di comprare un nuovo alimentatore senza voler spendere troppi soldi perché quello originale costicchia devo dire la verità c'è questa valida soluzione che sto usando ormai da alcuni mesi che funziona benissimo l'ho comprato su amazon mi lascio il link in descrizione qui sotto attenzione perché ci sono diversi modelli quindi non tutti sono compatibili col computer questo nello specifico vi lascio comunque link così guardate nello specifico le caratteristiche e modelli compatibili ma per il macbook air da 13 pollici comunque da 11 pollici attorno a quell'anno che vi dicevo va perfettamente lo faccio vedere anche se alla fine è un classico alimentatore quindi abbiamo tutte le caratteristiche per quanto riguarda il vattaggio il voltaggio le indicazioni questo è un 45 e la caratteristica è simile a quello originale per quanto riguarda proprio il fatto che è magnetico quindi si attacca in modo magnetico quindi tramite una calamita che è inserita all'interno e si illumina anche di verde o rispettivamente di rosso vi mostro giusto al volo viene attaccato al computer così possiate capire come vedete si attacca adesso vorrei farvi vedere giusto per far vedere che funziona la ricarica quindi adesso vado ad attaccare la corrente tra l'altro comodo anche questo nastrino per poter avvolgere il cavo non è male ad attaccarlo 3 2 1 stacco attacco come vedete si illumina di rosso perché sta caricando perfetto questo è tutto se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela vi lascio il link in descrizione del prodotto